Buongiorno a tutti ieri della casa, tra l'anno 25 giorni, Smael Cusciardo, il conservatore di tutti i recetti, parte di Italia sulla prima dell'alto, incontro di l'alto, e ora nel canale di questo concerto. Velle accetta e Smael Cusciardo per riconoscenza come un grado, e finalmente decide di inviare questi due nomi di riconoscenza come un ringraziamento a tutti i strumenti che vedete in un buon percorso, a cura di riconoscenza come un ringraziamento a tutti i nostri amici, per il nostro amico di riconoscenza come un ringraziamento a tutti i nostri amici, e quindi noi dobbiamo fare le lezioni, e quindi ciò che è dato da rinassistere alle lezioni di osso. E poi tutti gli devono, per esempio, prima di prepararsi un esame nella sala per vedere quando la professione è un esotore, che indicano tutti gli ospiti per assistere alla preparazione degli esami della musica, per poi confrontarsi, richiedere i suoi geni, di incoraggiare, di riconoscenza. Tutti i grandi riconoscenziamenti. Mi ricordate il nome Papa è il più stato usato, vedete questo? Questo è il più grande chiamafonte del nostro maestro. Grazie a tutti.